perché che nel mondo non tutti le persone che ti incontrano ti vogliono fare del bene ci sta ognuno fa il suo il guru fa il guru e il guru vende i corsi e campa così e c'è qualcuno che lo deve comprare soprattutto se se ti parlano noi noi guardate noi tutto diciamo escluso che quando venite qua venite qua e avete trovato la formula magica della vostra vita noi vi diciamo che chi viene qua deve lavorare perché mentre lo facciamo rispettiamo voi ma rispettiamo noi stessi e la nostra il nostro equilibrio di cui parlavo prima capito alessandro quindi chi va dietro ai guru a quelli che ti fanno vedere sono entrato oppure si fanno la foto con con la macchina nuova no con la macchina fiammante io in questi ultimi due mesi ho guadagnato centomila euro e uno lo segue che che vi devo dire io non è colpa di chi fa la foto che chi la fa la foto sa esattamente a chi sta parlando e chi lo segue che non sa che vuole capito quel modo di fare quel tipo di pubblicità quel tipo di marketing è un marketing che viene rivolto al nostro cervello rettile che ce l'abbiamo tutti poi ci sono persone che sono più predisposti proprio al rettile quindi vanno dietro a queste stronzate e persone invece che a un certo punto capiscono che le cose facili non non esistono questa è l'unica verità la nostra vita è fatta di lavoro ma non parlo di lavoro fisico di lavoro nel senso di cercare di migliorare i risultati vengono così non vengono da tutto e subito il tutto e subito è un meccanismo che ci distrugge noi vogliamo tutto e subito non noi quella parte la del cervello e questi signori cioè così forse non è che la qualcuno di loro non la manco studiate semplicemente hanno visto altri che lo fanno perché non è solo nel trading se ci pensate un po in tutti un po in tutti i monti nel trading un po di più perché purtroppo è un territorio molto accessibile per i cacciatori di cervelli rettili diciamo perché è molto facile perché uno apre un conto con 500 euro ed è un trader invece dovrebbe sapere che è una preda non è un trader è una preda i suoi 500 euro lui non lo sa ma già non ce li ha più quindi nel momento in cui invece noi ci fermiamo riflettiamo ragioniamo e iniziamo a dire io voglio fare il trader io devo mettere in preventivo che mi devo formare devo investire dei soldi per acquisire competenze quando uno parte con questo tipo di approccio di presupposto non c'ha bisogno di di stare nervoso quando apre il trade non sarai più nervoso perché prima di tutto non lo aprirai il trade fin quando non ti sentirai pronto di farlo capito funziona così ecco perché noi organizziamo questi queste giornate e questi eventi in cui parliamo anche del mindset soprattutto del mindset perché questo è quello che poi fa farà la differenza farà la differenza tra chi vuole riuscire veramente e chi cerca di riuscire luciano dice quando siamo neofiti non è facile trovare la strada e di maestri giusti anche qui sono utili esperienze negative io non condivido totalmente cioè non è che io che per imparare a guidare una macchina devo prima sfasciarne una diecina altrimenti non ho imparato bene o è normale no prima di guidare proprio una macchina vado a scuola mi formo cerco di capire prendo la patente faccio delle guide no di prova con l'insegnante a fianco e poi vado poi ci sta che comunque si fa l'incidente ma non è obbligatorio farlo altrimenti cresci uno che sfascia dieci macchine non è detto che diventi un bravo autista perché probabilmente inizierà a pensare che lui non sa guidare e quindi si si innesterà una credenza limitante ok non cerchiamo sempre ragazzi di scaricare su altri il guru che fa così questo è uno scarico di responsabilità è un alibi noi non dobbiamo darci alibi ragazzi dobbiamo capire che se finora non abbiamo ancora trovato la quadratura c'è ancora da lavorare per trovarla quindi che cosa dobbiamo ma più che focalizzarci su quello che che ti ha fregato i soldi che ti ha fatto il corso e che non serviva a nulla ok l'importante è avere poi acquisito almeno la consapevolezza che quella non è la strada giusta ma la strada più corta e semplice come dice fabio non sempre porta a quello che che è il nostro desiderio diciamo anzi anzi sì no ma va bene luciano no sì ma non sto dicendo luciano dice io sono qui perché prima ho sbagliato appunto è quello che ti ho appena detto però non è obbligatorio cioè non è io per esempio quando sono partito ragazzi giusto per dirvi io quando sono partito sono andato su web e ho visto un po di personaggi ok non capivo nulla di trading ho fatto come voi ragazzi io dieci anni fa non sapevo nemmeno che cos'era il trading allora io quando sono partito c'era un po di youtube su youtube alcuni video queste cose io ho individuato la persona non il trader perché se tu vuoi individuare il trader migliore il trader migliore come lo fai a valutare se tu non capisci niente di trading diciamo che io per esempio non ho mai seguito una partita di hockey sul ghiaccio guardo la partita di hockey su ghiaccio e devo capire chi è il miglior giocatore e se io non capisco nulla di hockey come faccio individuare il miglior giocatore io invece che faccio per individuare il maestro devo cercare che quando la persona parla devo vedere come si atteggia che cosa dice se mi dice che tutto è semplice se mi dice che tutto è semplice lo scarto a priori se mi dice ragazzi qua c'è da lavorare c'è da allora ci vado questo già inizia a essere una persona seria come ne prendiamo noi le valutazioni come la valutiamo noi le persone in base a quello che ti dicono ieri ho guadagnato 10.000 euro stanno quelli che tuttora ci chiedono quando avete fatto di percentuale lo scorso anno per capire se noi siamo dei buoni maestri quello è l'ultimo parametro che va chiesto anzi non serve proprio io non ho mai chiesto ad arduino quando ha guadagnato anno precedente quindi dipende anche da noi come ci approcciamo le cose ragazzi e quindi noi dobbiamo anche capire che quando ti mettono davanti ragazzi come funziona con la trappola dei topi ti mettono il formaggio e ti beccano se tu sei un topo ti fregano e noi siamo tanti topolini quando ci facciamo fregare da da quello che ti fa vedere il piatto pronto quindi più che dare responsabilità e scaricare colpe su altri prendiamoci le nostre responsabilità non ce l'ho con te luciano è per l'amor di dio io sto dicendo il meccanismo che funziona sto spiegando come funziona il meccanismo quindi noi dobbiamo individuare le persone una volta individuato la persona io quando vi sento con qualcuno di voi io e arduino ci sentiamo noi vi diciamo quando appena vi scrivete nel primo mese ragazzi non dovete venire a vedere se se guadagniamo perdiamo quello che dovete capire è se il nostro modo di fare è in linea con quello che siete anche voi perché se è in linea con quello che siete anche voi allora non vi serve l'abbonamento mensile fate quando ci sono le promozioni fatevi il pacchetto semestrale annuale poi magari col tempo fate anche il lifetime perché l'obiettivo nostro non è cercarvi di spillare gli euro dalla dalla tasca l'obiettivo nostro è cercare di trovare delle persone che con cui condividere una modalità uno stile anche di vita ok quindi per individuare dovete guardare le persone così si individua il maestro o la persona che ti può dare una mano ma guarda ma scusa un attimo ma se tu scusami se tu quando io ti ho visto la prima volta sul video no se poi sempre mantenuto una certa tranquillità proprio una pulizia non solo del grafico parlo di persona ma se tu invece facevi il pagliaccio ma come io ti potevo dare credibilità per me per quanto per il mio modo di vedere il mondo chi fa il pagliaccio guardate anche nello sport hai mai visto fare il pagliaccio a michael jordan non hai mai visto fare il pagliaccio a cristiano ronaldo hai mai visto fare il pagliaccio a tutti prendi qualsiasi quelli che fanno i pagliacci hanno deturpato anche un loro talento il più delle volte non ha buttato anche via quindi se noi quando andiamo sul trading andiamo a vedere quello che ti fa vedere ti mostra la macchina cioè io la macchina di arduino l'ho conosciuta qualche anno fa l'ho vista non sapevo nemmeno che macchina avesse capito quindi ho individuato la persona che più o meno mi poteva trasferire un'esperienza in un mondo che dove io stavo a zero e questo fatto sapendo che io l'arduino non poteva prendere le informazioni e inserirle nel mio cervello ma dove dipendeva dal lavoro dalla mia applicazione dalla mia focalizzazione da tutto quello che noi diciamo sempre dipendeva da questo la mia riuscita o la non riuscita ma noi ragazzi quando vogliamo e ci mettiamo in testa di fare qualcosa noi abbiamo tutto per riuscire dipende dalla focalizzazione dagli obiettivi era tutta una serie di caratteristiche non dipende dalla bravura in come talento innato perché se dobbiamo dipendere da quello significa noi in nostra vita non possiamo fare nulla cioè siamo nati così e non possiamo imparare e invece non è vero e lo sappiamo esatto la macchina è uno specchietto per allodore c'ha ragione fabio serve ad attirare i cervelli rettili diciamo capito la nostra parte rettile ecco perché aumentando la consapevolezza in un certo senso ragazzi funziona così nel momento che tu sei più consapevole di te stesso di come funziona ti prendono anche meno per il culo ragazzi perché tu riesci a individuare se uno ti sta dicendo una stronzata o se ti sta dicendo una cosa o se ti sta dicendo una cosa perché ti vuole vendere una cosa noi parleremo di queste cose comunque nel corso del del dei nostri percorsi quindi state tranquilli anzi i ragazzi tra cui davide claudio e altri che sono stati con noi e che hanno fatto tutto il percorso lo sanno che noi siamo scesi molto in profondità su queste cose e continueremo a farlo continueremo a lavorarci il marketing ragazzi si basa sui nostri bias cioè sulle nostre distorsioni ci dicono delle cose perché così noi distorciamo la realtà e facciamo quello che ci dicono diventiamo delle scimmiette ammaestrate funziona così questi lo sanno ti buttano sull'emozionalità ti fanno vedere il sogno e noi là dietro con come i cagnolini con la lingua di fuori a scodinzolare e a sperare che un giorno anche noi faremo quello